Dal 3 al 5 maggio torna un appuntamento importante a Rovigo, si chiama Rovigo Racconta, che cos'è questo evento? Rovigo Racconta è un festival di libri e di musica, arriva quest'anno alla sua sesta edizione, è il primo fine settimana di maggio, quindi dal 3 al 5 maggio nel centro della città, quindi nel centro di Rovigo. È il festival arancione perché la città letteralmente si colorerà di questo colore, che è il colore che da sempre identifica il festival, quest'anno il claim è siate coraggiosi, quindi la linea guida che percorrerà tutti gli appuntamenti sarà proprio il coraggio, il coraggio di vivere in questo momento, in questo momento storico, tematiche molto importanti, ambiente, cittadinanza e tanti appuntamenti non solo per i grandi ma anche per i bambini e le famiglie. Che cosa ci sarà quest'anno, quali saranno gli ospiti, gli appuntamenti speciali? Ci sarà venerdì 3 maggio una grande inaugurazione con Michele Serra che aprirà le danze alle 18.30, poi Gianrico Carofiglio è uno straordinario concerto di nada. Il sabato e la domenica si partirà da mattina fino a tarda notte, ci saranno tantissimi ospiti, da Gabriele Romagnoli a Paolo Rumiz, Barte Zaghi, Michela Marzano, e chiuderà il festival Stefano Benni con un'anteprima nazionale in cui verrà a fare un reading per la prima volta in Italia del suo nuovo libro che uscirà proprio in quei giorni. Letteratura ma anche quindi tanto intrattenimento per la città di Rovigo. Sì, Rovigo racconta, cerca di togliere un pochino di polvere dalla parola cultura e soprattutto cerca di far divertire le persone. Diamo gli orari dunque, da quando a quando Rovigo racconta? Da venerdì pomeriggio, tardo pomeriggio, fino a domenica sera, una serie di appuntamenti non stop che coinvolgeranno addirittura anche la notte, quindi vi aspettiamo in centro a Rovigo.